Gli alpaca sono tra i più piccoli tra i mammiferi cammellidi, assomigliano ai cammelli ma senza gobba. Hanno un carattere particolarmente gentile, sono curiosi, affidabili e adorano i bambini, trasmettono molta calma e serenità e aiutano tante persone, soprattutto bambini e anziani, attraverso l'alpaca terapia. Gli alpaca sono mammiferi dagli occhi grandi, orecchie e collo lunghi e nasi prominenti. Sono animali estremamente pacifici, furono visti per la prima volta nel continente americano. Inizialmente si trovavano solo in Sud America, specialmente in Bolivia, Cile e Peru, la parte più popolata dagli alpaca. Oggi ce ne sono tantissimi negli Stati Uniti, in Australia, tanti anche nel Regno Unito e da circa 20 anni, quante migliaia anche in Italia. Quali sono le abitudini degli alpaca e cosa gli piace mangiare? Gli alpaca sono molto bravi ma sono anche molto selettivi, quindi loro hanno le loro erbette in giro quando pascolano liberi, noi gli diamo il fieno di terzo taglio e poi quando vengono le persone, il pubblico, abbiamo sempre un po' di fioccato che è come una specie di dolcetto. Gli alpaca sono animali particolarmente pacifici, sono quindi adatti alla terapia assistita per aiutare le persone? Sì, in realtà sono gli unici animali che abbiamo scelto nel nostro progetto proprio per questo motivo, perché sono bravi con le terapie assistite e avvicinano le persone alla natura. Nonostante la loro mole, che comunque non è piccola, riescono a essere talmente pacifici che le persone non hanno mai paura e quindi poi sono comunitari, sono curiosi, quindi hanno un sacco di caratteristiche positive e ci sono piaciuti tantissimo. Abbiamo visto anche molti risultati. Vivere con gli alpaca si imparano un sacco di cose, in generale con tutti gli animali della fattoria, perché le persone hanno gli stessi atteggiamenti degli animali, si imparano moltissime cose anche sul rispetto che hanno tra di loro, sul modo di comunicare. È veramente un regalo questo, conoscere la natura nella sua stagionalità, nelle abitudini degli animali che osservi perché non li devi usare, quindi è proprio tutto un altro approccio. Noi qui li osserviamo e basta e questo è molto bello. Salvataggio degli animali durante l'alluvione di Senigallia e non solo? Sì, in realtà a parte gli alpaca, tutti gli animali che sono qua vengono da situazioni in cui avevano bisogno di essere appunto ricollocati, perciò avevano bisogno di una casa e noi li abbiamo accolti. La fattoria didattica ha appunto lo scopo di fare conoscere varie specie di animali, però poi non si può aumentare troppo il numero, sia perché si perde il contatto col singolo animale, sia perché poi gli animali devono stare sempre bene, avere uno standard di benessere molto alto e noi siamo in questo momento al completo. Per quanto riguarda gli orecchini, tra virgolette, che vengono messi a questi animali, non c'è un modo per poter evitare di metterglieli visto che in natura è una cosa assolutamente innaturale? Sì, assolutamente. Ho provato, ho chiesto. La legge è una legge giusta perché l'animale va riconosciuto, quindi l'unica cosa è che non c'è distinzione tra un allevamento di 600 pecore e noi che ne abbiamo 18 li riconosciamo anche di notte, quindi bastava mettere in un cassetto magari gli orecchini e scrivere chi erano, però la legge dice che l'animale va riconosciuto perché dopo domani che magari non ci sono più io e nessuno sa chi è Troppola, chi Ardesia, chi è Guigio, tutti gli animali che da noi hanno un nome, è giusto che li sappia riconoscere, però la pensa un po' come te. Noi siamo qui tantissimo tempo durante il giorno e questo ci riempie di gioia e soprattutto ci riempie di gioia il fatto che è stato un progetto condiviso sin dall'inizio con anche tante persone fuori dalla nostra famiglia che ci hanno abbracciato il progetto e sostenuto economicamente. Spieghiamo a chi non riesce a capire, a chi non conosce l'amore degli animali un aneddoto particolare che li possa far ricredere. Sì, gli animali hanno veramente delle risorse che noi a volte non riusciamo a immaginare, per esempio quando è stato male il coniglio che aveva comunque una malattia che gli ha creato tante crosticine agli occhi e alle orecchie, il papagallo che viveva nella stessa diciamo voliera, da vicino prima con discrezione e poi più deciso l'ha liberato da tutte queste crosticine, quindi l'ha guarito e gli ha dato la possibilità appunto di salvarsi e questa è stata una cosa molto commovente, dopodiché quando entravo con i bambini a prendere il coniglio il papagallo si arrabbiava tantissimo perché era il suo amico, il suo amore.